Quindi chiamo il sindaco e gli dico scusami sindaco ti parlo da chi ha più anni più di te, non ti parlo da presidente del Teramo. E quindi ti vorrei dare, perché tu forse non ti rendi conto, ti vorrei dare un consiglio. Cerca di lasciare perdere tutte le cose che devi fare tutti i giorni, mettiti seriamente a lavorare sul progetto Teramo, per qua si rischia grosso, per qua se da domani non si mettono d'accordo il Teramo rischia seriamente perché siamo arrivati. Questa è una storia che va avanti da oltre un mese, quindi qua nessuno, oggi stiamo tutti a fare o i pecoroni o meno per domani dare la colpa a uno dei tre. Questa è una storia che è uno dei tre, sicuramente se la prenderanno tutti e tre, ma qua il problema è di altra natura. Quindi io credo questo, che il problema ancora nessuno sa quanto è grave, che tempi ci vogliono per fare un'iscrizione, che fiduzione bisogna fare per fare un'iscrizione, e qua tutto tace. Quindi il sindaco è il primo cittadino di questa città, si deve muovere, senza fare polemiche, si deve muovere, se no fa un danno enorme perché un sindaco ha la responsabilità di un bene pubblico gestito da terzi e ci deve mettere la faccia in un modo o in un altro. Quindi il dottor sindaco si deve dare molto da fare qua, ma tanto da fare per poter risolvere questa patata bollente, perché questa è una patata bollente che da domani il Teramo va in prima categoria. Io mi vergogno, mi vergogno vivamente, ma non ho la colpa dopo undici anni, come io o come tanti altri che qui oggi stavano al posto mio. Non possono avere la colpa di essere massacrati che ci hanno rimesso milioni e milioni di euro. Qua qualcuno si deve prendere in mano la situazione, e chi qualcuno? La politica, deve uscire allo scoperto, deve dire che cavolo può fare per poter risolvere questo problema. No Sabatino, Iachini o Campitelli, noi abbiamo pagato con i soldi, veri, e non altro, Iachini e già ama il Teramo, perché se no non piangeva, non piangeva, perché io piango, perché questo è un mio gioiello e qualcuno si deve muovere. Chi? Io non posso fare niente, Iachini non può fare niente, Sabatino non può fare niente. Ok? Punto. Ognuno si assume le sue responsabilità, perché da domani qua succede un macello di denunce e altro. Ognuno si assume le sue responsabilità. Sono tre persone per bene, tutti e tre, e quelli li chiamo comifessi. Perché cosa? Perché non c'è interesse di chi ci deve essere interesse qua. Perché è ora che la smettano per un solo motivo, uno, perché se continuano così non ci sono tosti come me che stanno qui a combattere. Dopo un anno scappano tutti, per colpa di chi? Queste devono stare al loro posto. Il tifo mi sta bene, quello che vuole, le parole no.